76, 78 sull'alcanza per i quali IVA, con 30, 68, tolgono la sua croya, scoppano un giro, 33 sullevello, 58, 81, finito il numero 1, San Comarocchi ecco il barfari con 98 con un po' di scuro con un po' di scuro per i ciclisti con 34 arrivo per la lontagna la di fronte 105 seguiti da 77 a 3 la prima donna la prima donna brava bravissima 9 8 6 25 67 15 15 15 15 16 16 16 69 dall'arrivo bravo atti 2 seguito dal 89 di dall'arrivo angela serena serena angela 71 subito dal 63 50 30 bravissima 70 50 15 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 16 15 Allora arriva il numero 17, bravissimo, subito dal 64 per l'Italia. Allora arriva il 24, bravissimo, conclude la soprano il numero 56, bravissimo, battagli giudice, bravissimo, battagli, 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 battagli.